Allora intanto prima cosa selezioniamo le carte da mettere e aspetta io direi di vedere se loro mettono barricato o meno Sì tranquillo ci sono sono online tranquillo non rompere un cazzo non hai nemmeno provato mai provato pj quindi non rompere che Beh adesso te lo metto un altro tranquillo dov'è la barricata qua Non va bene? Dov'è che devo mettertelo? Acqua aspetta che mi metto quella lunga Ma andiamo lì gli orsi giganti cosa consiste questa modalità? Aspetta ho detto qua anche le frecce Semplicemente è una modalità normale di orc must die Solo che diciamo che anche un po' pvp Passano passano e vaffanculo E modalità pvp perchè semplicemente puoi mandare i nemici diciamo all'avversario E vaffanculo Iniziata malissimo Come vedete in alto c'è 18, 25, 18 sono quelli che noi possiamo permetterci di far passare 25 quelli che loro si possono permettere di far passare E quindi sono un vantaggio loro diciamo Quando quel numero arriva a 0 si è aperto Sì ma io poi il tuo personaggio non lo so nemmeno usare E' abbastanza cagare Andiamo qua a traste Andiamo qua barricate Ah non ho più soldi ok ottimo E praticamente ci sono ordate E' uguale a orc must die due Ci sono ordate che devi Continuare a smettere di A non far passare diciamo Il problema è che non è per un cazzo Perché Qua è con il fatto che ti mandano addosso Nemici Continuamente Ti rinforzano le ordate Guardate Dai ok gliene è passato uno anche a loro Due Dai stiamo recuperando pian piano E io c'ho il boss Si possono mandare anche boss addosso Adesso dovrebbero anche Venire da qua Ok ottimo Le ho buttate giù quelle Che gli sbalzano giù nella lava Ottima cosa Io non c'ho però quelli che Dai come la fai mettere Ciao PJ Ti leggono tranquillo Mettiamo queste per quelli che passano Ok ok Ma come? Dov'è che sono passati? Era finita l'ondata però vabbè E praticamente si fa così Fino a otto ondate Chi ne ha fatto passare più gente perde E diciamo che è abbastanza divertente Perché quando si è in team con la gilda Ci divertiamo un botto E di solito vinciamo anche già la seconda ondata Non è questo il caso Perché a quanto pare sta andando veramente di merda la partita però Io da qua non colpisco vero? Tanto ci sono i potenziamenti da prendere Oh bella Guardate che figata che li butta giù Guardate che figata che li butta giù Guarda che io cado o no? Ok Aia però guardiano Non devi fare male a me però Ah io non ho mandato il boss Che pirla che sono Non gli ho mandato il boss Adesso se lo fanno tranquillamente Ah c'è di nuovo il boss Facciamo di nuovo il boss E cerchiamo di mandarlo all'inizio Adesso arrivano da tutte e tre le parti E mettiamo un po' di difese sempre qua Magari mettiamo quella che li incendia così Se passano Mettiamogliela all'inizio Così rimangono incendiati tutto il tempo E diciamo che è una modalità molto figa Perché unisce appunto il PvP al PvE Non sputtana come la vecchia modalità PvP Il Vail L'Ork Must Die classico Visto che tutti si sono lamentati che non era Il vero Ork Must Die Bla 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 E invece questa modalità Non lo sputtana Cioè diciamo Non Ah arrivano da là Cazzo Che coglione che sono Da là in centro Non lo avevo visto Ed è figo Ed è figa questa nuova modalità Poi ci sono le rank Che per ora Io sto in argento 2 La Gilda sta in argento 4 C'è praticamente più No Poi non li colpisco però E vaffanculo Sti cazzo di cose qua di merda Eh allora ragazzi Questa qua È palese Che la perdiamo È palese Che la perdiamo Non Non abbiamo fatto Ottime tattiche E poi c'è Oh beh io c'è un personaggio Anche che mi spiva Cagare Però Ne serviva uno a distanza Per quelli veloci Più che altro Ma io non ho capito Perché hanno chiuso qua Ah perché vanno tutti di laurea Ok vediamo Golem di ghiaccio E La velocità Siamo 10 a 19 Se loro non sbagliano Abbiamo perso Però possiamo Sempre sperare che sbaglino Non si sa mai Fino alla fine Diciamo ragazzi Finchè Ho sbagliato A mettere le punte Tanto c'è gente Che cade giù nella lava E muore Ma lei Ma lei Ma lei Ma No siamo a 6 PJ E non è male Come cosa Comunque ultimamente Sto facendo sempre 6 5 Aspettatori Dai però Anche questi qua Passano adesso Che palle Note No 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 Eh però Questi qua Non Anche loro Stanno passando Ma noi 6 5 Abbiamo perso 4 Abbiamo solamente 4 Non possiamo far passare Ma non Cioè fa cagare Diciamo Topissimo 7 spettatori adesso Fa cagare sto personaggio Cioè almeno A me fa cagare Sto personaggio Non mi piace Cioè solo dove vengono In centro E dai due lati Ah poi Che ho qua messo Le barricate Ottimo Cioè Quelli che preferisco Io sono il Ma che cazzo Servono qua Le barricate Se poi qua Non chiudono Me la fa chiudere Sì Ah ci hanno messo Loro la La super furia Io qua metto Il colpo Potenzio Adesso dovrebbero arrivare Da qua Da qui qua infatti Ma facciamo una cosa Mettiamo un guardiano Perché almeno Le indebolisce un pochettino Poi arrivano da qua Stanno attaccando pure una barricata Ottimo Mettiamo Eh ma loro sono più organizzati di noi Cioè in verità Non hanno messo barricate Però quanto pare Fanno Le loro trappole Fanno più danno Delle nostre Cioè noi c'era Siamo giocata Veramente Veramente In mare E spero di non scendere Di rank Perché sennò Mi girano le balle Qua mi ha Fiotto di barricate Vorrebbero arrivare Da qua Fare il tuo giro E andare di qua Quindi mettiamo qua Un po' di Cose che fanno Danno Anche se io posso Mertelo Sì Anche se Non li fanno Così tanto danno A quel punto Ma morite tutti male Dovete morire tutti male Madonna Quanti sono Però Vai 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 Che li passano No non li passano Questa qua è la penultima Andata ragazzi Mi sa che La roba qua La perdiamo Eh ragazzi Il gioco è free to play Poi vi lascerò Magari quando la ricarico Su youtube Ma da dov'è che è passato Da dove Non l'ho nemmeno visto Cioè uno Ce ne manca Ragazzi Uno Eh Lo sto dicendo Il gioco è free to play Magari poi Quando la ricarico Su youtube Vi lascio il link Dove Dove Scaricarvelo Un po' di danno Si sa mai Allora Wave finale Qua si gioca tutto E mi sa che Perché non mi fa mettere Le trappole Così a caso Non mi fa mettere Le trappole Qua Ci hanno distrutto Una barricata Ottimo Ragazzo qua Ah praticamente Cosa succede Perché se state sopra Mi distruggono Le barricate E io adesso Ci sto morendo Però Quindi mi ricarico Mi ricarico Un po' di mana Già che ci sono Ci hanno distrutto Ci hanno deciso Un guardiano Madonnina Eeeh No la perdiamo Ormai è persa Ragazzi Ormai è persa Cioè loro Sono riusciti a Contrastarci benissimo E vabbè Sperando che non sono sceso Di rank Adesso no Defitto Sperando che non sono sceso